Francesca Scicchitano le gioca in casa a 14 anni e la vediamo subito entrare da questa scalinata eccola qui con lo stacchettino musicale dell'orchestra che abbiamo dietro le quinte non l'abbiamo potuta far vedere. Buonasera Francesca come va tutto bene? Tutto bene. E allora gli hobby in questi anni che cosa hai coltivato di particolare come hobby? Ho continuato sempre con il canto. Sempre? Sì sempre. E ora da poco ho iniziato a studiare pianoforte. Ah molto bene quindi insomma vai a completare per certi aspetti alcuni insomma o meglio ad aumentare non a completare anche in quelli che sono gli strumenti da poter utilizzare. Molto bene. Io non so come si fa a cantare immagino a suonare e cantare insieme per me è un delibero insomma ognuno nella vita ha una mission. Perfetto. Detto ciò io so che canti un bel pezzo di Adele. Quale? Set fire to the rain. Molto bene quindi spegniamo questa pioggia questo fuoco con la pioggia insomma e è una bella storia anche questa qua. Signori Francesca Scicchitano. Applausi. Grazie. Applausi. 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 mi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti